Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo di Agropoli hanno festeggiato i nonni nella giornata ad essi dedicata. Durante la manifestazione c'è stata l'occasione per portare all'attenzione dei ragazzi l'importanza dei nonni che sono il fondamento della nostra società e dei nostri valori e importante memoria storica. Oggi è la festa dei nonni, quindi ricordiamo gli angeli delle nostre case. Sono felice come presidente dell'associazione AMI che opera in Agropoli da circa 10 anni e si occupa di formazione di cultura. Abbiamo avuto con noi anche la delegata Unicef, la professoressa Giovanna Ancoraniglio che ha portato dei gadget e ha ricordato che ci sono tanti bambini al mondo che soffrono ancora la fame e la malnutrizione e quindi i nostri nonni diventino oggi i nonni di tutti questi bambini fantasma che nessuno vede ma ce ne sono tanti che soffrono. I nonni sono soprattutto le radici della nostra vita e sono gli alberi della nostra vita. La loro esperienza e il loro aiuto giornaliero dà la possibilità alle famiglie di crescere, di crescere nell'amore. Io faccio gli auguri a tutti quanti i nonni, anche quelli che non sono oggi potuti intervenire, anche quelli che in questo momento avrebbero voluto essere con i loro figli e non possono. Sono contenta del successo della manifestazione e mi corre l'obbligo di ringraziare il preside Bonfrisco, la scuola media di Agropoli che ci ha dato il permesso e l'opportunità di essere oggi qui. Innanzitutto voglio ringraziare il dirigente sempre aperto alle grandi manifestazioni e questa di stamattina è una grande manifestazione perché è un intreccio di amore tra le famiglie, gli insegnanti, le varie presidenti e ovviamente i ragazzi che sono la meraviglia della nostra esistenza, una meraviglia valorata e tutelata dai nonni che hanno speso e che spenderanno la loro vita sempre per questi nipoti per far sì che la loro esistenza scorra nel migliore dei modi. Ecco, in questo luogo che io definisco il luogo della meraviglia perché c'è questa grande dimensione di amore, di affetto, di luce, faccio i miei più vivi auguri ai nonni, ai nipoti, a tutte le famiglie, a tutta la comunità con grande grande affetto.